Ciao stelline, come state? Spero tutto, 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 molto, molto bene Benvenuti o ben ritrovati sul mio canale in un nuovo video Come avrete letto dal titolo, questo video sarà dedicato ai preferiti del mese appena trascorso, ossia ottobre Prima di iniziare, come di consueto, mando un mega bacio alla mia amica Alessia con cui collaboro ormai da anni Il suo canale è AlessiaSML, ma penso che ormai la conoscete tutti Altrimenti vi invito ovviamente a seguirla, vi lascio giù nell'info box sia il link al video che al suo canale Un bacione grandissimo tesoro E adesso iniziamo subito parlando della canzone che ho preferito La canzone che senza alcun dubbio ho ascoltato di più è Non avere paura di Tommaso Paradiso Questa canzone è ovunque Appena entro in macchina, alla radio, in qualsiasi negozio, pizzeria, ristorante, risuona ovunque Ma in realtà la canzone che ho preferito di più di tutte è la nuova di Willy Peiote Un'artista che io stimo moltissimo Mi piacciono tanto i suoi testi E questa nuova canzone intitolata La mia futura ex moglie È anche molto molto ricchiabile E ho gradito in particolar modo che ho inserito in questa canzone una strofa Di una vecchissima canzone di Fabri Vibra Che si chiama Come te E insomma mi è piaciuta tantissimo Quindi se non l'avete ancora ascoltata vi invito a farlo Perché è davvero bella secondo me Passando invece a serie tv o film del mese Io non ho guardato nessuna serie tv Però oltre a X Factor che sto seguendo su Sky Ho guardato un film sempre trovato su Sky Nella sezione thriller Come sapete io amo i thriller E ho trovato questo film proprio qualche giorno fa E si chiama, si intitola Un uomo tranquillo Mi sono fidata perché l'attore protagonista è Liam Neeson Che io amo Per me è un grandissimo attore E quindi di solito i suoi film sono una garanzia E devo dire che è un film ben fatto Si lascia guardare Anche se uno di quelli che ho più preferito Quello di protagonista è L'uomo sul treno O l'uomo nel treno non mi ricordo È trama bellissima E finale inaspettato Passando invece al capo che ho indossato di più Vi mostro una banalissima maglietta nera A maniche curte E questa l'ho presa da H&M Non ricordo il prezzo Ma ve lo scriverò qui Vado a dare un'occhiata al sito E trovo il prezzo e ve lo scrivo E' così E' una semplice maglietta a costine Abbastanza lunghetta Allora L'ho trovata davvero molto comoda Io queste magliette le sfrutto tantissimo Sia a maniche curte Sia a canotte Lunghine così nere Perché le metto in questi periodi Un po' di transizione Con i maglioncini Tipo questo qui Che ho preso anche di altri colori Anche questo da H&M Questo costa 20 euro su per giù E trovo che siano molto comode Perché in questo periodo Io mi vesto a strati Come dico a cipolla Dico a cipolla Proprio perché mentre fa caldo Fa più freschetto Quindi il mio outfit ultimamente E' maglia a maniche corte Oganotta Maglioncino Sciarpa E ovviamente Leggizzo pantaloni E quindi questa E' il capo Che ho indossato Di più in assoluto E infatti Credo proprio che Andrò a prenderne altre Ne voglio un'altra nera Uguale così E ne vorrei prendere anche una bianca Sono molto molto comode E aderenti Però lo stringono Quindi L'ho trovata davvero carina Poi anche se dovrei inserirla Negli accessori Quello che adesso vi mostrerò Ma negli accessori Avevo già il capo Completamente occupato Da cosa che poi vi farò vedere E quindi ho deciso di Spostarla nella sezione Capo da pigliabetto E vi mostro Un mio nuovo acquisto Questa borsa Della Rocco Barocco Che ho pagato 40 euro Invece che 80 Ero lì Per pagare E mi ha detto La comessa mi ha detto No signorina Questa costa la metà C'è uno scotto del 50% Ok E quindi nulla Penso sia un affare Perché è fatta davvero bene È capiente Ed è proprio come mi serviva Come la volevo E poi Questa colla Sia i manici Che la tracolla Quindi Veramente È proprio come mi serviva Sono stata Contentissima Di averla trovata Per quanto riguarda Lo smalto Non ne ho messo nessuno Ho semplicemente Cambiato Il colore Del gel Perché prima Avevo un bianco latte Questo invece Va più nel rosato Anche se Non so se Si nota E Tra qualche giorno Dovrò Rifarle E credo proprio Che continuerò A dubbare Per colori Così chiari Così sopra Posso mettere Tutti gli smalti Che voglio Perché come vi ho spiegato Già qualche video fa Questi gel Tendono Non si opacizzano E quindi Rimangono luci Di conseguenza Usare smalti O cetoni O solventi Sopra Non le danneggiano In alcun modo E quindi Penso proprio Che continuerò A fare Questi colori Qui Passando Al cibo Devo assolutamente Consigliarvi Sono questi Triangolini Di mais Che non sono Fritti Non c'è libido E sono ricchi Di fibre E proteine E all'interno Ci sono I legumi Croccanti Eccoli qua Ragazzi Sono buonissimi Io li mangio Come spuntino Accompagnato Al guacamole Che faccio io Con l'avvocato Ovviamente Vedete Vedete Questa La parte marrone Sono i legumi Croccanti Buoni 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 E sono super Crunchy Buonissime Ricordo La prima volta Che le ho comprate Ho finito il pacchetto Subito In macchina Vi ho detto tutto Ok Passiamo A Questi comunque Li trovate in ogni supermercato Almeno io finora Li ho trovati in diversi supermercati Comunque Passando agli accessori Vi ho detto che ho un po' di cose da mostrarvi Allora La prima Quello che ho preferito di più E che appena mi è stato regalato Non ho mai tolto È questo orologio qui Ora lo tolgo Così lo vedete meglio Eccolo qui È il Casio Uno dei miei orologi preferiti Questo me l'hanno regalato Le mie migliori amiche per la laurea Mi conoscono benissimo Io amavo questo orologio Conoscono perfettamente i miei gusti Pensate che io Cioè non Noi gli avevo mai detto Che era questo modello in particolare Che mi piaceva E che mi andavo sempre nel comprarlo E sono stata felicissima Quando Quando l'ho visto Ovviamente Non vi so dire quanto costa Ma comunque Bellissimo Non so se si vede bene Lo trovo davvero Molto molto fine E questo Ve l'ho detto Da quando me l'hanno regalato Ce l'ho sempre al polso Sta bene su tutto Mi piace tantissimo Poi vi mostro altri due regali Che mi sono stati fatti Per la laurea sempre Allora Uno È questo ciondolino qui Di Pandora Ed è un Un ciondolo Con lo spazio Che forma un quadrifoglio E Da un lato C'è scritto Coraggio E dall'altro C'è scritto Fortuna Vabbè Non si vedrà nulla E Che mi ha regalato mia zia Quella me l'ha regalato Una delle mie zie E questo invece Che anche Non si vedrà È un ciondolo Con dei libri Il cappellino Della laurea Con l'anno 2019 E questo L'hanno regalato I miei fratelli Molto molto carino Ma purtroppo Non si vede molto E niente Quindi questi Sono i tre accessori Da cui non mi sono mai separata Da quando me li hanno regalati Passiamo invece Al prodotto Toccia Come non Menzionarvi Anche questa volta Un bagno schiuma Un bagno schiuma Della Mandovani I soldi Che vi mostro Ma questa è la mia profumazione Preferita In assoluto La profumazione È talco E fiori bianchi Cioè Voi quando usate questo bagno schiuma Lascerete la scia È incredibile Io lo amo È proprio un profumo Un profumo di pulito Assurdo 400 ml Quindi confezione Molto grande Costa solo Un euro È proprio Il classico profumo Di burro d'alco Arricchito Con questo profumo Di questi fiori bianchi Cioè Paradiso Ora vi voglio parlare Del prodotto Top Del mese Io In passato Ho usato Uno shampoo Secco Della Lush Che devo dire Mi sono sempre Trovata bene E mi è durato Un'infinità di tempo Anche perché Non è che lo usavo Così spesso Ho sempre Cercato di utilizzarlo Quando volevo dare Volume ai capelli Quindi mai In sostituzione Dello shampoo Ma c'è chi lo usa In sostituzione E non c'è niente di male Ho deciso di provare Dopo aver letto Milioni di recensioni In merito Lo shampoo secco Della Batista Che è questo qui Eccolo Ovviamente Prima di essere usato Va agitato E poi va spruzzato Nelle zone Interessate A me piace Tanto 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 E qui c'è scritto Capelli perfetti Tre minuti Senza acqua Quindi appunto È un shampoo secco Io ero andata In profumeria Questo lo vende Anche da bellezza Oltre che Trovarlo su internet Ero andata Alla ricerca Del classico Shampoo secco Della Batista La confezione verde Vado lì E ne trovo Diverse varietà E la signorina La commessa Mi consiglia Proprio Perché A lei ho spiegato Che lo volevo Più che altro Per dare volume I capelli Di provare Questo Mi ha detto Che era nuovo Questa era una nuova Versione Proprio Che Specifica Per dare volume I capelli Ed era l'unico Rimasto Quindi L'ho subito preso E Mi sembra Di averlo pagato 9 euro E tra l'altro Il profumo È davvero Ottimo C'è scritto Che ravviva Rinfresca Volumizza E protegge E Vi dico Davvero Lo sto usando E mi ci trovo Molto bene Un altro Prodottino Che voglio Consigliarvi È questo È questo qui Si chiama Lipsmacker C'è scritto Kiss Therapy Kiss Therapy Ed è Alla profumazione Menta Eucalipto L'ho adorato Perché Allora A parte che Mi idrata davvero Le labbra Ma poi Mi piace tantissimo Il profumo Fortissimo Di Menta E di Eucalipto E quando Lo applicate Vi Sentite Quel pizzico Rio Che Mi dà Proprio L'impressione Che mi sta Anche Volumizzando Le labbra E l'effetto Mi piace tantissimo Quindi Lo sto Utilizzando Quando non Metto nulla Sulle labbra Mi piace Tanto Tanto Ne metto Un po' Anche a te Lo potete Lo potete trovare Anche in altre Profumazioni Però Sinceramente Io Questo tipo Di prodotto Tendo a Preferire Per quanto riguarda Questo tipo Di prodotto Tendo a Preferire Sempre Profumazioni Alla Menta Soprattutto D'inverno Per quanto riguarda Il make up Semplicissimo Ultimamente Non mi sto Neanche troppo Applicando Con gli ombretti Metto Giusto Un po' Di Margino Scuro Nell'angolo Dell'occhio E lo sfumo Un po' E le matite Che sto Indossando Una Non l'ho Quello Dimenticata Che è Quella Che indosso E della Wicon E si chiama Wine Ma ve l'ho Già mostrato In altri Video E l'altra Me la state Chiedendo Sempre Quella Che indosso Negli ultimi Video Ed è Questa Qui Della Essence Vi dico Subito Il numero È il numero Undici Che si chiama Sucker For Grey Faccio Uno scoccino Molto Cremosa Ecco il colore Esattamente Questo È un Lila Freddo Mi piace Tantissimo E Ve lo chiedete Sempre in tanti Quando la indosso È questa qui La matita Che ho su Negli ultimi Video E poi Ho Recomprato Poi vabbè Non do S'inserirlo Nella sezione Makeup Comunque Ho Recomprato Il mio profumo Preferito Di Bottega Verde Che è Quello Al Pepe Rosa Tra l'altro Mi è successa Una cosa Incredibile Quando Dovevo Acquistarlo Proprio Tipo Lo stesso Giorno Che ne avevo Parlato Il mio Vidanzato Che appunto Avevo chiesto Di accompagnarmi A prenderlo Mi arrivano Una cartolina Da Bottega Verde Con Uno sconto Proprio Su questo Profumo Invece Di 23 Euro E Non ricordo Qualche Centesimo Me L'avrebbero Fatto Pagare 6 Euro Cioè Incredibile E quindi Ce lo dovevo Acquistare Sono andata E l'ho Acquistato A soli 6 Euro E questo Qui Io amo Questo Profumo Mi è stato Regalato Per la Prima Volta Dal mio Vidanzato A Natale Dell'anno Scorso E Ho sempre Proprio Utilizzato Questo Mi piace Tantissimo Poi Per quanto Riguarda L'evento Del mese Ovviamente Il giorno Più Particolare È stato Quello Della Laurea Tanto Stancante Ma Ovviamente Il giorno Che ho Preferito Di più Di più E Vabbè Vari Vesteggiamenti Giorni Successivi Ma Passiamo Ai Canali Perché Sono due Questo mese Che voglio Consigliarvi Allora Io mi sono Rilassata Tantissimo Con il video Di Oasi Bianca ASMR Che saluto E a cui Mando un bacio Ovviamente E Ho visto Io la Seguo Da sempre Mi ha rilassato Tantissimo Il video Con le Polle Di Sapone Vi metto Giù Nell'info Box I link Andate A guardare Il suo Canale Perché Merita Davvero Il suo Whispering Mi piace Tantissimo E poi Mi è piaciuto Troppo 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 Il video Di Alice Della Bravissima Alice Che è un portento Con i roleplay Credo proprio Che sia una delle Più brave In assoluto Ha un sacco Di idee E mette Tanta Tanta Cura Nei sui video E E' bellissimo Interpreta Bloody Mary E ci sono anche Degli Edding Sounds Comunque Mi è piaciuto Troppo E Quindi Ovviamente Ti saluto Alice E ti mando Un bacione Anche a te Vi lascio Tutti Tutti I link Nell'info box Mi raccomando Andate a guardare Ma passiamo A La candela Che ho utilizzato Di più Non è una tart Ma è l'equivalente Del votivo Di Yankee Candle E' un'altra marca Che ho trovato In una cartoleria Mi piaceva tantissimo Il profumo E Quindi ho deciso Di provarlo E questo qui Si chiama Balsius Il marchio Questo qui Si chiama Balsius Non l'abbiamo mai sentito E la profumazione Non so dirvela Perché qui c'è scritto Tipo Wood 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 Non so cosa Wood È legno Ma Wood Wood Non so cos'è O Wood Vabbè Comunque Ce l'ho accesa Anche qui In questo momento In questo carinissimo Porta candele Con le margheritine Devo dire che dura Tantissimo L'ho accesa Diverse volte Ed è ancora Quasi Integra Comunque Il profumo Me lo aspettavo Ancora Più intenso Di come È In realtà Ma comunque Si sente È abbastanza delicato Però E nulla stelline Il video si conclude Così Vi mando un bacione Grande 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 E vi auguro Una dolcissima Buonanotte Un bacione E buonanotte Ciao E buonanotte